Il distretto tecnologico della moda è estremamente complesso a differenza del precedente perché si sviluppa sia a livello territoriale in vari ambiti regionali, a livello proprio geografico, sia perché è estremamente differenziato in termini di tipologia di aziende come dimensioni, modelli di business piuttosto che definizione delle filiere, capacità di interagire dal punto di vista anche all'interno della stessa filiera oppure all'interno di contesti competitivi come possono essere quelli internazionali di riferimento e con estrema variabilità anche delle capacità e dello sviluppo delle tecnologie. Punti di forza di tutto il distretto in ambito regionale sono innanzitutto una forte identità del prodotto sia nel senso dell'estetico del bello ma anche il riconoscimento a livello internazionale che è esercitato proprio dal Made in Italy in generale ma dal Made in Tuscany in particolare sia perché in regione ci sono delle competenze tecnologiche e imprenditoriali estremamente sviluppate sia per il patrimonio delle competenze specialistiche di know-how. Inoltre a livello mondiale è riconosciuto il valore dell'esperienza sviluppata nei secoli ormai di questo distretto, dei distretti tecnologici che compongono il settore moda. Altro punto di forza è la creatività e la propensione all'innovazione continua, si pensi ai campionari che vengono sviluppati nell'arco dell'anno o a livello stagionale ma anche la ricerca continua di innovazione in termini di tecnologie applicate a quelli che sono gli ambiti prettamente tecnologici e specifici. Altro punto di forza è la presenza nel settore di aziende leader a livello mondiale con brand riconosciuti e che hanno un forte appeal soprattutto per la parte di mercato del lusso e quindi di fascia alta. L'altro punto di forza è il numero consistente di imprese e che rende tutta la filiera di ogni comparto estremamente flessibile. Questo punto di forza però può essere un punto di debolezza se si va ad analizzare i singoli pezzi che compongono la filiera dal punto di vista della competitività a livello mondiale. Ovviamente se un punto di forza la filiera nel suo complesso se si vanno a definire e ad analizzare le competenze specifiche delle singole aziende molte volte abbiamo delle aziende che hanno una scarsa propensione all'internazionalizzazione a livello singolo, una scarsa attività di trasferimento tecnologico e una scarsa interazione con gli organismi di ricerca e con le università. Questo molte volte è dovuto all'assenza di reti di aziende che costituiscono quindi un nocciolo duro che ha capacità anche di definire un controllo a livello di filiera ma anche che definiscono delle scarsità a livello di competenze specifiche soprattutto a livello imprenditoriale, soprattutto nel caso delle piccole e micro imprese che costellano tutta la filiera nei vari comparti produttivi. Questo definisce anche una scarsa capacità in termini di programmazione soprattutto della produzione ma anche di sviluppo della parte logistica nonché una difficoltà di accesso al credito perché appunto se da una parte la dimensione estremamente piccola rende tutta la filiera flessibile quando appunto ripeto si va ad analizzare la dimensione a livello di singolo molte volte appunto si ha difficoltà c'è il credito sia dal punto di vista bancario che dal punto di vista dei finanziamenti pubblici soprattutto mi riallaccio alla nota che è emersa dall'intervento di Siris cioè la scarsa propensione alla partecipazione ai progetti più strutturati come possono essere in Horizon o comunque il livello europeo. Le opportunità attualmente, poi le rivediamo anche nello sviluppo delle nostre roadmap, sono quelle da andare a definire e a studiare i nuovi potenziali acquirenti e i nuovi mercati, soprattutto quelli di alta gamma e con alto contenuto di ricerca e sviluppo che si stanno ovviamente sviluppando nel sud-est asiatico. Per far questo è necessario appunto andare a studiare quali possono essere le nuove tipologie di clienti, di utenti finali e andare a definire quindi miglioramenti dal punto di vista del design, dell'appeal del prodotto e del contenuto anche di servizi all'interno della vendita del prodotto stesso. Le minacce sono date soprattutto dalla concorrenza simmetrica dei paesi in via di industrializzazione, dalla mancanza di un equilibrio anche a livello di situazione di sicurezza a livello geopolitico qualche anno fa appunto la chiusura da parte della Russia definì una perdita della capacità proprio produttiva e delle nostre aziende soprattutto per esempio nel settore calzaturiero. Questo appunto è dato anche da una minaccia che è definita dal legame con monocommittenti, questo soprattutto nel caso dei brand legati soprattutto alla fascia del lusso. Allora, dall'analisi che fu fatta nel 2013 emersero 5 roadmap. Il processo che abbiamo fatto a livello regionale coinvolgendo gli imprenditori dei vari distretti produttivi attualmente concluso ha portato praticamente a riconfermare le roadmap però a renderle più articolate. In particolare, la moda ecosostenibile che nel 2013 aveva un contenuto molto forte dal punto di vista tecnologico è diventata moda circolare, ossia ha abbracciato anche la parte, diciamo dal punto di vista dell'approccio più economico coinvolgendo sia il design che la progettazione di servizi collaterali appunto come dicevo prima alla produzione. I processi intelligenti e la quarta roadmap del 2013, i prodotti intelligenti, appunto attraverso il focus group che abbiamo sviluppato con gli imprenditori, sono state definite come estremamente correlate e quindi è stata generata la seconda roadmap attuale, processi prodotti e tecnologie intelligenti. Ossia abbiamo praticamente visto che c'era una forte connotazione del prodotto e del processo pertanto abbiamo pensato che mentre nel 2013 erano state viste più dal punto di vista della tecnologia e quindi partendo dal forzetto tecnologico definite adesso siamo andati proprio a definire quelle che sono le necessità dell'impresa per restare competitiva. Quindi creare prodotti sì nuovi, intelligenti l'abbiamo chiamati, ma che vengono fuori da uno studio del processo produttivo e anche un'attenta selezione delle tecnologie applicate per la produzione stessa. L'ultima roadmap, il distretto del futuro tra innovazione e tradizione invece praticamente nasce dalla commissione dell'ultima roadmap del 2013 e della terza, ossia condivisione e cambiamento e verso il distretto del futuro. Tutti gli imprenditori che hanno partecipato ai focus group hanno manifestato nei vari comparti produttivi l'esigenza di andare a utilizzare la formazione in senso lato, quindi formazione finanziata, learning by doing, piuttosto che trasferimento di competenze per andare a definire quelle che sono le figure strategiche di ciascun comparto produttivo, a livello produttivo in particolare e quindi la necessità di definire delle modalità per evitare che ci sia una perdita di competenze che sono appunto strategiche per il nostro settore. Infatti abbiamo chiamato il distretto del futuro tra innovazione e tradizione, ossia sì innovazione tecnologica in certi contesti estrema ma anche recupero della tradizione per evitare che certe produzioni vengano completamente abbandonate. Nel dettaglio in ciascuna roadmap vengono riportati le tecnologie e gli ambiti applicativi come ordine prioritario, diciamo non è un ordine estremamente collegato alla necessità di sviluppare una roadmap piuttosto che l'altra perché sono praticamente tre roadmap che possono andare a livello parallelo come sviluppo. La moda circolare quindi richiama tutta una serie di trattamenti, di tecnologie che ovviamente possono essere correlati agli altri distretti tecnologici e anche allo sviluppo degli studi di ricerca e sviluppo prodotti a livello universitario degli altri organismi di ricerca sia a livello toscano ma anche a livello internazionale. Gli ambiti vedrete che sono praticamente sempre gli stessi perché sono stati definite per tutte le roadmap l'applicabilità nei vari contesti produttivi quindi tessile, conciario, abbigliamento, pelletteria, calzotoriero, orafo, arredamento per appunto la commissione con il distretto degli interni e anche meccanico ed energetico. Il livello invece di tecnologia e di applicabilità a livello tecnologico e manifattoriare ovviamente è estremamente vario perché appunto come dicevo questa variabilità delle aziende del settore porta in certi casi ad avere delle tecnologie che sono facilmente applicabili nelle aziende più strutturate che ovviamente fanno produzione ma allo stesso tempo la stessa tecnologia può essere vista molto embrionale da sviluppare nelle aziende dove lo sviluppo della ricerca è più indietro. Nella roadmap invece processi, prodotti e tecnologie intelligenti ovviamente le tecnologie sono quelle spinte dell'ICT, dell'automazione, della robotica, dell'RFD, quindi tutta la parte tracciabilità, l'applicazione di nanotecnologie soprattutto nella parte dei finissaggi e quindi trattamenti superficiali ma anche l'elettrofilatura piuttosto che le tecnologie di stampa in jet e tutto il comparto diciamo di tecnologie a supporto dello scanner 3D, reverse engineering piuttosto che di tutta l'elettronica sia indossabile ma anche microelettronica, microsensori applicabili a processi produttivi e ai prodotti stessi. Stessa cosa qui per il livello delle tecnologie d'applicabilità a livello sia di produttivo ma anche di studio della ricerca si trova un'estrema variabilità. Nell'ultima roadmap le tecnologie sono quelle tecnologie a supporto, diciamo piuttosto qui ci siamo basati su quelle che possano essere tutta la parte di reti digitali, social, di connettività a livello sia di impresa ma anche di distretto e diciamo di contesto generale, quindi vari soggetti che in qualche maniera riescono a fare rete, ovviamente considerando tutte le varie tecnologie a supporto. Gli ambiti e settori di applicazione sono gli stessi, in questo caso la parte invece applicata al livello al manifatturiero troviamo un livello molto più basso, quindi 5-9 perché sono tutte tecnologie che sono già sviluppate e che possono essere facilmente definite e immesse nel contesto aziendale. Le roadmap sono state validate diciamo come ultima istanza dal comitato di indirizzo che ha partecipato attivamente anche nei focus group territoriali. Ci sono domande?